Presidente, sulla questione della trascrizione dei matrimoni omosessuali in Italia c'è uno scontro in corso fra Prefetture e alcuni sindaci, il Ministero dell'Interno. Io sto con i sindaci, apprezzo il lavoro che hanno fatto i sindaci, il modo puntuale con cui ha risposto il sindaco di Empoli, alle contestazioni che gli venivano fatte. Poi anche qui il Paese non si governa con circolari, consiglierei al Ministro Alfano se posso permettermi di aprire più un dialogo e di cercare di capire quali possono essere le soluzioni. Il Paese che si governa con circolari attraverso i prefetti riporta molti decenni indietro.